I cartelli chiamano molte funzioni. L'indicazione d'ottimo, di vieto e di pericolo. La forma di energia che interessa i corpi in movimento è l'energia cinetica, la cui formula è un mezzo, massa per velocità al quadrato. Le grandezze che influiscono sull'energia cinetica sono solo due. La massa. Le grandezze che influiscono sull'energia cinetica. Le grandezze che influiscono sull'energia cinetica. Le grandezze che influiscono sull'energia cinetica.